E' arrivato ora il momento dell'appuntamento con il nostro ospite in studio, l'approfondimento di oggi e le cose di cui andremo a parlare sono particolarmente importanti perché riguardano la nostra sicurezza in auto. Buonasera, buonasera anche da parte mia e proprio così in questo approfondimento in studio di questa puntata toccheremo un argomento molto importante per la sicurezza dell'automobile. Mi riferisco chiaramente al parabrezza che, dati alla mano e poi andiamo a approfondire e a capire il perché, contribuisce per circa il 30% della stabilità complessiva di un veicolo. Per farlo chiaramente abbiamo un ospite esperto di questa componente, vado subito a presentarlo, lo ringrazio di essere qui con noi. Do il benvenuto a Lamberto Ingra che è il direttore operativo acquisti e logistica di Bellron Italia. Buonasera. Buonasera ai telespettatori di Safe Drive. Ecco, partirei proprio da questo dato con cui ho introdotto questa chiacchierata. Il 30% della sicurezza e della stabilità all'interno di un veicolo è dato da parabrezza. È così? Sì, anche di più. Nel senso che ormai siamo oltre o vicini al 35% di rigidità del veicolo. Nel senso che il parabrezza contribuisce alla rigidità del veicolo. In realtà, se ci riflettiamo bene, il vetro è una componente rigida, ma sostanzialmente non tocca mai la scocca. C'è un cordone di colla che intercorre tra il vetro e la scocca ed è proprio quello che trasmette la rigidità al veicolo. E quindi le modalità di installazione, quindi il ciclo di incollaggio, è estremamente importante. I tecnici che fanno l'installazione devono essere correttamente formati e devono eseguire procedure precise per consentire un'installazione sicura. Sicura anche perché il parabrezza serve proprio per proteggerci. In caso di incidente frontale, potrebbe scoppiare, scoppierebbe l'airbag lato passeggero e deve poter trattenere questo airbag che è molto grazie. Oppure, in caso di ribaltamento della vettura, il parabrezza evita il collassamento del tetto. Certo. Si parla spesso di usura, di una componente di un veicolo. Il primo riferimento che mi viene in mente è quello del pneumatico. Il parabrezza è soggetto a usura? No, in realtà no. Nel senso che il parabrezza è soggetto a essere colpito da piccoli detriti. Soprattutto nel periodo invernale può succedere che questi detriti che vengono dal manto stradale, che magari è stato rovinato dal ghiaccio, colpiscano la vettura, il parabrezza e quindi creano delle microcrepe. Queste microcrepe con l'umidità tendono ad allargarsi, quindi è importante fare dei check-up frequenti per evitare di dover sostituire il vetro dell'autovettura e poterlo riparare immediatamente. Anche perché questo è previsto dal codice della strada, perché un vetro scheggiato non è più sicuro. Quindi per ripristinare la sicurezza è importante ripararlo immediatamente, altrimenti bisognerà sostituirlo più in là. Facciamo una premessa prima riguardo a quella che è l'interazione sempre più massiccia tra il parabrezza e i sistemi di sicurezza. Oggi diciamo che per gli addetti ai lavori si parla di ADAS, che è un po' un acronimo che va a racchiudere tutti quelli che sono i sistemi di sicurezza attivi e passivi all'interno di un'automobile che è sempre, di qualsiasi segmento di mercato parliamo, più tecnologica e ci deve essere uno sviluppo di interazione. Parlavamo prima nel caso di un ribaltamento piuttosto che di altre situazioni anche magari meno estreme. Come lavorano il parabrezza? Come si rivolge a questi sistemi di sicurezza? Di solito gli ADAS sono dei sistemi che ricevono delle informazioni, delle centraline che ricevono delle informazioni da sensori, radar o telecamere. E il punto di osservazione migliore che può avere l'auto per quello che avviene di fronte a sé è sicuramente sulla parte superiore del parabrezza. Quindi nel momento in cui noi andiamo a sostituire il vetro di un'auto con questi sistemi montati, bisognerà provvedere alla ricalibratura e al risettaggio di questo sistema per renderlo sicuro esattamente come prescrivono le case costruttrici. Certo. Ci avviciniamo all'inverno, stagione fredda, quindi mi chiedo, la diminuzione della temperatura in qualche modo diventa una minaccia per i cristalli per l'auto? Ma in generale sì, mi viene in mente un esempio, non so se è capitato anche lei, ma immagino che è capitato anche ai nostri telespettatori. Quando mettiamo per esempio una bottiglia di vetro nel freezer con dell'acqua o del vino e ce la dimentichiamo, il giorno dopo la andiamo a prendere e la bottiglia è rotta, perché l'acqua congelandosi si espande. Lo stesso avviene sul manto stradale e sulle microcrepe che si creano sul parabrezza. Il manto stradale si disgrega con l'allargarsi del ghiaccio e crea questi piccoli detriti che possono colpire il parabrezza e creare microcrepe. All'interno di queste microcrepe l'umidità congelandosi allarga la crepe e quindi bisogna assolutamente controllare l'auto dopo questi periodi di ghiaccio, di comunque di temperature più basse per verificare che non ci siano queste microcrepe e se nel caso vi fossero eventualmente ripararle per evitare una sostituzione. Certo. Dicevamo all'inizio della nostra intervista che Berlaron in Italia è presente con tre tipologie di marchi differenti. Andiamo un attimo ad approfondirle, soprattutto la domanda è, vi rivolgete a un pubblico differente o è solo un modo per dividere l'attività? No, noi abbiamo, diciamo il nostro è un gruppo multinazionale, Berlaron Italia è presente con tre brand. Carglass che ha centri diretti, sono 180, più 70 partner al sud, Origlass che è il distributore, leader di questo mercato, distributore e vendita all'ingrosso di cristalli per auto e il gruppo Dr. Glass che è un network in franchising che ha 120 centri. So che peraltro proprio recentemente state allargando il vostro business, la vostra azienda che è nata, si è evoluta con riferimento proprio legato al mondo dei vetri, dei cristalli per auto, oggi si allarga e va in un territorio diciamo nuovo rispetto a quella che è la sua storia che è quello delle carrozzerie. La nostra visione dice che noi vogliamo fare la differenza nel risolvere i problemi delle persone con autentica passione e questo lo vogliamo fare non solo nel mercato della sostituzione e riparazione a vetri auto ma anche in altri mercati e certamente il mercato della carrozzeria è un mercato molto simile, molto vicino a quello che noi oggi presidiamo. Infatti abbiamo comprato il network più importante di carrozzerie sul mercato italiano, Eurocar Point. Si tratta di una rete di 250 affiliati e l'obiettivo è di sviluppare ulteriormente la rete. Il nostro modello a breve termine sarà quello di affiancare alla rete di franchising una rete diretta e avranno entrambe lo stesso marchio garantendo lo stesso livello di qualità e servizio che Garglass normalmente offre nei suoi centri vetro. Grazie, io ringrazio per i preziosi consigli Lamberto Ingrà, lo ricordo direttore operativo acquisti e logistica di Bellaron Italia e chiaramente l'invito è per una delle prossime puntate di tornare a trovarci. Grazie. Grazie, grazie a voi.